Ciao ragazzi, siamo con questo nuovo video sempre qui Dubai, siamo tornati qui su Call of Duty Warzone Ora direi di andare a fare una volta in singolo, prima che facciamo qui Si inizia, dai dai, eccoci Armistice, giorno 96 Castovia Ok, viene di buttarci qua Ok, aspettiamo Si, ci sta, ci sta Ci credo esiste più possibile L'obiettivo principale è farli tutti fuori Dai muove, cerchiamo subito un'arma Dai dai dai, metti di scuola, corazza, corazza Ok Sono operative Finamente operative Ok, corazzo ottimo Raga direi Tenerci, anno c'abbè c'abbè fuggire a bomba Il mio preferito di fuggire a bomba Poi alla fine sono tipo pochissimi, saranno 5-6 di fuciapomba Sto pensando di comprarlo, Wallory Il mode warfare completo, che lo so, c'è molti voi ce l'hanno, cazzo La quest'ora di un giocatore? Qua è passato un giocatore È passato un giocatore qua, che ha la pistola, quella di inizio partita Oh, cazzo Siamo in safe? Venga Insomma, camperei troppo qua con lo scudo Oddio, oddio Oh No, non sembrava se c'è nessuno Quello ha coltato la pistola, che abbiamo già visto prima Che andrei di nuovo sopra per controllare Poi la bisogna un po' più ampia, che porca, troia, siete un giocatore Eh, si è sepultato anche da qua Ahah Questo è molto investigativo Camminiamo a bassi, non ci facciamo sentire Cioè, mi sembra essere proprio solo, infatti è entrato solo No, no, un vetro Ma è stata l'edificazione Sto sparando da questa parte Che raga, direi di cercare di correre e finire in questa casa Ok, c'è verbo una mitraglietta Ok, quando sono entrati? Che sento anche la cesta da sopra Oh yeah Sei molto buona questa arma Anche se è comune Però finché siamo in casa andiamoci qui Bomba, perché se ci spuono avanti un corpo li ammazziamo Oddio, questo è comodissimo E no Camminetta troffi, me la tengo Oddio, aspetta Oh yeah No Perfetto Diciamo che per ora sta andando bene Porca Mi sono stordito Ma quando è distorto il suono del UAV Che raga, direi di far partire anche il nostro UAV Ottimo Guarda quanti ce ne sono vicino a noi Che merda Stiamo andando verso il centro della safe Che è la parte Più sicura dal gas Però anche Meno sicuro È che Li vanno a Concentrarsi tutti I giocatori Qua sono andate a tutte le direzioni Eh, direi di camperarcela un po' qua Oh cazzo Non so che si sta facendo sempre più vicino Ma che nemico ti individuo Ok, però Non ti veda Oh porcaio Ho rotto io il vetro Oh cazzo È qui dentro È qui dentro Contatto, contatto Ok, ok, ok Mamma mia Non ce l'ho aspettato proprio Porca merda Ho sbagliato a imputare Ok, ok, ok Mamma mia Se entrano tutti qua No Ok, Gulag è chiuso Caraga, non so La tattica camperona Sta funzionando Cioè mi re Mi reputo soddisfatto Dai Quattro è potentissimo Questo Poi un altro livello No, vabbè Ma che figata è Ok, ok, ok Congegno, questo è il mio regolo Nel storio tipo 28 Mamma mia La prossima safe Dovremmo andarcene da qua Molto probabile Mamma mia E' per esempio alle spalle Anche se i rumori Sendo molto più a destra E infatti Destra e sinistra Ovunque Oh porca merda No cazzo L'ho detto L'ho detto Dovevo salire Vabbè raga Oh Bella partita Dai Due decisioni Ve l'ho detto Diciamo Forse Per fatto sto registrando E che Non è stato proprio Molto piacevole Però Dai Mi sono divertito E' stato Fico Vabbè Alla prossima Ciao Ciao